Stefano Caldoro è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania. L'accordo tra i partiti della coalizione è stato raggiunto e con una nota comune Berlusconi, Meloni e Salvini hanno annunciato la convergenza sul nome del socialista. La spunta dunque Berlusconi che da subito aveva indicato Caldoro come candidato nonostante fosse poi arrivato il veto anche da alcuni ambienti stessi di Forza Italia. Per la terza volta consecutiva dunque torna a delinearsi la sfida Caldoro De Luca per i vertici della regione. La prima è terminata a favore del centrodestra, la seconda a favore del centrosinistra e ora il nuovo match che ripeterà in toto quanto avvenuto cinque anni fa, visto che anche Cinque Stelle torneranno a correre guidati da Valeria Ciarambino. Con la definizione dei papabili alla presidenza della regione Campania parte anche la corsa per i candidati consiglieri. Sul territorio per il centrosinistra dovrebbero essere confermati i nomi dell'assessore regionale uscente Corrado Matera e del presidente del parco Tommaso Pellegrino. Anche Simone Valiante dovrebbe avere un posto nella competizione. Nel Vallo di Diano intanto le voci parlano di una possibile corsa di Donato Pica sotto la guida Mastella e anche della ricerca di un nome femminile guardando con attenzione alle amministratrici di Sala Consilina. La più caldeggiata dal Partito Democratico sarebbe il vice sindaco Lombardi che però al momento pare resistere a queste eventualità. A sostegno di De Luca potrebbero correre nel Cilento anche la consigliera regionale uscente Maria Ricchiuti e il consigliere provinciale Giovanni Guzzo, quest'ultimo in quota PSI. Per il centrodestra ha ufficializzato la sua candidatura il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato in quota Fratelli d'Italia. Ma intanto nel Golfo di Policastro per la stessa coalizione potrebbe correre anche l'ex assessore provinciale Attilio Pierro chiamato a scendere in campo dalla Lega. Forza Italia punta tutto sul sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. Nel Vallo di Diano invece uno dei nomi più accreditati a sostegno di Caldoro è quello di Valentino Di Brizzi corteggiato in particolare dalla Lega e che però potrebbe essere interessato anche alla corsa per le amministrative a Sassano. Fratelli d'Italia punterebbe anche a un altro candidato nell'area del Vallo di Diano ma le attenzioni sul sindaco di Montesano Rinaldi non avrebbero avuto per il momento esito. Tra gli altri nomi in polla a sostegno di Caldoro circola quello della vice sindaco di Vallo Antonietta Coraggio. Intanto per i 5 Stelle dopo la decisione della candidata saprese Tiziana Crusco di rinunciare alla candidatura per il disaccordo sul nome della Ciarambino il candidato grillino più vicino all'area sud di Salerno resta Michele Cammarano. Al momento per tutti o quasi questi nomi manca l'ufficialità e si sta ancora ragionando.